Il commissariamento di Forza Italia in Puglia e le dimissioni di tutti i vertici pugliesi hanno creato una spaccatura tra Berlusconi ed il Tacco d'Italia che sta portando gravi conseguenze politiche anche in vista delle elezioni regionali di maggio. Fitto, forse definitivamente abbandonato dal Cavaliere, ha costruito bene nella regione Natia. Ciò è dimostrato dalle posizioni assunte dai vertici, ormai ex, del partito. Questa situazione crea sconcerto anche nelle città azzurre come Monopoli, vicine a Fitto, che politicamente sono in attesa di risposte da Bari e da Roma per poter muoversi sul territorio ed organizzare una campagna elettorale vincente. Sicuramente nell'ambito amministrativo non ci sono strascichi né tantomeno ci saranno diversità di vedute nell'ambito politico e partitico. Dispiace perché Fitto è stata sempre una risorsa del centro-destra e un Lidl riconosciuto a livello nazionale e credo che in questo percorso che noi apprendiamo sicuramente dai mass media e dai giornali ha cercato in quest'ultimo periodo di creare una valvola di sfogo abbastanza comprensibile nel centro-destra e soprattutto in Forza Italia, evidenziando alcune situazioni che chiaramente agli addetti a lavori possono essere anche comprensibili. Ma la stragrande maggioranza dei cittadini, agli elettori, a chi ha condiviso un percorso molto vicino a Forza Italia erano diventate quasi incomprensibili. Parliamo di un patto del Nazareno che più che un patto è stato un pacco per il centro-destra e quindi per Forza Italia. Non abbiamo avuto la possibilità di parlare con nessuno dei fertici perché chiaramente impegnati a Roma noi attendiamo notizie, speriamo che si riesca a ricucire questo strappo tra Fitto e Berlusconi per dare la possibilità al centro-destra e ripeto a Forza Italia di fare una grande campagna elettorale. Grazie a tutti.